Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo Le nuove disposizioni in materia di zone economiche speciali. Questo è il secondo incontro che fa parte di un ciclo di incontri programmati per il mese di settembre in cui si approfondisce l'impatto delle misure di semplificazione sul procedimento amministrativo. Misure di semplificazione introdotte dal Decreto-Legge 77-2021. Io sono Onorina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo incontro e farò una breve introduzione prima di lasciare naturalmente la parola ai relatori di oggi. Allora, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione che a sua volta si inserisce nel progetto Pong Governance e capacità istituzionale supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato appunto mandato al Formez PA di attivare il progetto stesso. Queste sono tutte le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto, quindi le varie tematiche che hanno riguardato i webinar e i seminari, mentre in questa infografica si può vedere qual è stato il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 agosto 2021. Hanno partecipato ai seminari 4.575 partecipanti e ai webinar 29.583. Questa seconda infografica riporta il numero dei partecipanti suddivisi per regioni, il maggior numero di partecipanti ai seminari proveniva dalla regione Campania, il maggior numero dei partecipanti ai webinar dalla regione Sardegna. Questa infografica riporta invece gli enti di appartenenza dei partecipanti, la maggioranza proveniva dai comuni. Dunque, queste sono le attività realizzate all'interno del progetto al 31 agosto 2021, le scorriamo velocemente insieme, sono state realizzate 139 attività tra seminari, workshop, corsi learning e webinar di sensibilizzazione e formazione, con 35.426 partecipanti e 2.210 amministrazioni. Sono stati costituiti e attivati 7 centri di competenza regionale in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza e anche monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione. Sono state poi anche realizzate delle comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Dunque, come dicevo all'inizio, questo è il secondo incontro di un ciclo di webinar previsti per settembre e dedicato alle novità introdotte dal Decreto Legge 77-2021, Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e disnellimento delle procedure. Il terzo incontro, il terzo webinar, è previsto per il 21 settembre. è già possibile iscriversi sul sito di Eventi.pia e questo terzo incontro riguarderà le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione energetica ed ecologica e di valutazione di impatto ambientale. Dunque, come dicevamo anche prima, questi sono i centri di competenza pienamente attivi, li rivediamo. Basilicata, Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati che si sono rivelati quindi strumenti efficaci per sviluppare proprio la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Dunque, questa è la pagina di eventi IPA in cui è possibile trovare tutte le attività che sono state realizzate all'interno del progetto. Veniamo invece all'incontro di oggi. Dopo questa mia introduzione lascerò la parola ai relatori che sono Caterina Enrigo e Riccardo Roccasalva, esperti entrambi di semplificazione del Formez.pia. Dedicheremo sempre poi uno spazio alle vostre domande, alle risposte alle vostre domande, alle domande che potete porre in chat intorno alle 11.10 e alle 11.30, come di consueto è prevista la chiusura del webinar. Dunque, questi sono gli argomenti che tratteranno i relatori, il nuovo silenzio assenso in area ZES, i poteri istruttori dell'Agenzia per la coesione territoriale e dei commissari straordinari e il nuovo procedimento di autorizzazione unica in area ZES. Dunque, come dicevo, potete scrivere le vostre domande in chat e come di consueto questo incontro sarà registrato e la registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi.pia alla pagina dedicata all'evento. Nella slide proiettata vedete il link a cui è possibile trovare appunto entro la giornata di oggi sia la registrazione che le slide dell'incontro. E prima di lasciare la parola alla relatrice Caterina Enrigo e nell'augurarvi buon lavoro, vi ricordo che gli attestati di iscrizione saranno rilasciati a quanti si sono iscritti naturalmente al webinar, a quanti avranno seguito almeno il 20% e sarà possibile scaricare questi attestati nei prossimi giorni in modo autonomo dal sito di Eventi.pia alla voce i miei eventi. A questo punto lascerei la parola alla dottoressa Caterina Enrigo che vedo collegata e provvedo a proiettarne le slide. Buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Caterina Enrigo, attendo di vedere le slide. Ecco le, ecco le. Grazie. Prego. Allora, come diceva, insomma, come si diceva prima, oggi parleremo delle nuove disposizioni introdotte dal decreto semplificazioni per come modificato dalla legge, per come convertito dalla legge 108 2021 in tema di ZES, in particolare per quello che riguarda il sistema di funzionamento e di governance di queste aree e anche le disposizioni che sono state introdotte per semplificare i procedimenti, insomma, e l'obbligazione degli interventi nell'ambito delle aree ZES italiane. Il piano nazionale di ripresa e resilienza ha aumentato la dote, o comunque stabilito la dote, per gli investimenti infrastrutturali nelle aree ZES di 630 milioni, oltre a questo ha previsto anche una serie di disposizioni per favorire la cantierabilità di questi interventi in tempi, diciamo, più rapidi del previsto e anche naturalmente l'insediamento delle nuove aziende, perché questo, insomma, alla fine è l'obiettivo, la finalità per cui sono state concepite le aree ZES che sono, che ricordo, sono state istituite, possono essere istituite nelle regioni italiane con meno sviluppate che si risultano in transizione, così come, appunto, individuato dall'Unione Europea, che sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, Campania, Mubil, Sepulia, Sardegna e Sicilia. L'articolo 57 del decreto semplificazioni va a modificare gli articoli 4 e 5 del decreto legge 91 2017 convertito con la legge 123 che sono gli articoli che si occupano, appunto, della governance e delle semplificazioni nelle aree ZES. In particolare, l'articolo 57 va a modificare la composizione del comitato di indirizzo delle aree ZES che è stato individuato come il soggetto attuatore dei piani strategici degli interventi individuati nelle varie regioni da realizzarsi nelle aree ZES. Ha modificato il procedimento di nomina dei commissari straordinari che presiedono il comitato di indirizzo a cui viene affidata anche, conferita anche la funzione di stazione appaltante. ha disposto che il supporto amministrativo alle attività che devono svolgere i comitati di indirizzo che i comitati di indirizzo possano avvalersi del supporto amministrativo dell'agenzia per la questione territoriale. Ha introdotto nuove procedure amministrative semplificate, compresa una nuova autorizzazione unica di cui parlerà poi il dottore Rocca Salva e ha incrementato il limite del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES estendendole anche agli immobili che sono all'acquisto degli immobili e aumentando il limite di investimento da 50 a 100 milioni di euro. In particolare andando insomma a vedere quelle che sono le modifiche specifiche che sono state fatte per quello che riguarda il sistema della governance, l'articolo 4 del decreto legge 91 2017 è stato modificato in più punti eliminando un invio per la procedura di nomina del commissario alla legge 400 del 1988 introducendo fra i componenti del comitato di indirizzo della ZES i rappresentanti dei consorsi un rappresentante dei consorsi di sviluppo industriale che precedentemente non erano previsti e poi nel caso in cui più porti siano inclusi nelle aree ZES e che quindi i porti inclusi nelle aree ZES siano di competenza di più autorità di sistema portuale ha disposto che ciascuno dei presidenti delle autorità di sistema portuale partecipi al comitato di indirizzo dell'area dell'area ZES quindi ha come dire fatto in modo che nel comitato di indirizzo siano rappresentati effettivamente tutti gli attori decisivi importanti per l'attuazione del piano strategico delle ZES è stata modificata è stata modificata come dicevamo prima la procedura di nomina del commissario straordinario delle ZES che avviene sempre su diciamo tramite un decreto del presidente del consiglio dei ministri ma attraverso un'intesa una proposta del ministro dell'estude e di intesa con la regione interessata è stato anche come dire individuata una modalità per superare eventuali diciamo mancate intese nella condivisione della proposta formulata dal ministro in questo caso se non si raggiunge l'accordo nel termine di 60 giorni la nomina viene effettuata su indicazione del ministro del sud con deliberazione motivata del consiglio di ministri nel decreto di nomina è stato stabilito anche qual è la misura del compenso aspettante al commissario mentre i componenti del comitato di indirizzo non hanno per i componenti del comitato di indirizzo non è previsto un compenso e poi è stato disposto che i commissari nominati prima dell'entrata in vigore del decreto legge non cessino dalle loro funzioni se non confermate in questo caso per esempio in Calabria già in questo caso è stata comunicata la cessazione della funzione del commissario che era stato nominato e quindi si è in attesa che vengano formulate le proposte per i nuovi commissari visto anche insomma le funzioni che sono state riconosciute dal decreto a questi commissari straordinari infatti sempre l'articolo 4 del decreto 91 per come modificato dell'articolo 57 prevede per il commissario straordinario la possibilità di assumere le funzioni di stazione appaltanti fino al 31 12 2000 stazione appaltante fino al 31 12 2006 e di operare in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici questo proprio per assicurare una più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di resilienza e resistenza la normativa questa deroga diciamo questa attività in deroga come stazione appaltante del commissario straordinario fa salvo il principio degli articoli 30 34 e 42 del decreto legislativo 50 2016 che è il codice unico degli appalti gli articoli riguardano i principi per la giudicazione l'esecuzione e l'esecuzione di appalti e concessioni mentre l'articolo 34 riguarda i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale e poi naturalmente non si può derogare alle disposizioni sul codice antimafia e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea per l'esercizio di queste funzioni il commissario può provvedere anche tramite delle ordinanze quindi in questo caso è previsto che si possano utilizzare per fare gli appalti che eventualmente siano previsti in pieno strategico queste nuove funzioni speciali riconosciute al commissario straordinario e già diciamo il decreto legge 76 del 2020 il primo decreto semplificazione aveva attribuito ai commissari straordinari che potevano già all'opera avvalersi del supporto dell'agenzia per la coesione territoriale una serie di funzioni quindi quello di coordinare e dare impulso alle varie iniziative per garantire l'attrazione e l'appetibilità degli investimenti nelle aree ZES e la piena operatività di queste aree nel contesto regionale operare avevano il ruolo di referente esterno del comitato di indirizzo per quello che riguarda l'attrazione degli investimenti nelle aree ZES contribuire ad individuare delle potevano contribuire ad individuare delle aree prioritarie nell'ambito delle aree individuate nei vari piani di sviluppi delle ZES delle regioni italiane e poi sottoscrivere appositi protocolli per le procedure per stabilire tra enti delle procedure ulteriormente semplificate dei regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES e in alcuni casi appunto ci sono delle esperienze in questo senso che cercano di migliorare e semplificare delle procedure complesse magari per andare ad insediarsi nelle aree ZES che come dire ne facilitano facilitano soprattutto l'ubicazione di nuove aziende sempre il decreto 77 del 2021 in questo con l'articolo comma 1 dell'articolo 5 ha ulteriormente modificato questo diciamo l'articolo 4 del decreto legge 91 specificando il ruolo di supporto che può avere l'agenzia per la coesione territoriale sulla base praticamente ai commissari straordinari della ZES sulla base delle indicazioni che vengono dalla cabina di regia delle ZES cabina di regia delle ZES che vi ricordo è stata istituita in base alle previsioni sempre dell'articolo 5 del decreto legge 91 del 2017 presso la presidenza del consiglio dei ministri l'agenzia quindi può garantire garantisce ai commissari straordinari delle ZES il coordinamento della loro azione a livello nazionale in modo che ci sia in qualche modo un fil rouge fra le varie aree ZES nazionali e quindi la pianificazione nazionale degli interventi da realizzare nelle varie aree ZES e questo lo garantisce tramite il proprio personale amministrativo e poi il supporto ai singoli commissari tramite personale tecnico-amministrativo che può essere diciamo reperito per garantire le competenze specifiche che sono necessarie per realizzare gli interventi in area ZES per realizzare i piani di sviluppo e per garantire quindi l'efficacia e l'operatività concreta dell'azione dei commissari straordinari in questo caso le risorse possono essere acquisite le risorse umane possono essere acquisite le competenze possono essere acquisite con oneri a canico del Pond Governance e Capacità Istituzionale da questo punto di vista l'agenzia per la coesione territoriale che nasce nel 2014 proprio per promuovere lo sviluppo economico la coesione e la solidarietà sociale fornendo supporto a varie amministrazioni per la realizzazione delle attività previste nella programmazione comunitaria e nazionale in questo caso l'agenzia per l'attività a supporto delle aree ZES ha istituito con un decreto del febbraio del 2021 la segreteria di supporto ai commissari straordinari delle ZES che è operativa proprio presso la sede della stessa agenzia andando lasciando insomma da parte le modifiche introdotte sulla governance vediamo quali sono le semplificazioni che sono state introdotte dal decreto 77 all'articolo 5 del decreto legge 91 sui termini dei procedimenti amministrativi previsti per gli interventi obitati nelle aree ZES in questo caso viene previsto che nell'ambito del procedimento di acquisizione dell'autorizzazione unica di cui vedremo più avanti i termini della conferenza sincrona siano ridotti della metà viene previsto che siano ridotti le metà anche termini di cui all'articolo 17 bis della legge 241 che disciplina gli effetti del silenzio e dell'inerza nei rapporti tra pubblica e amministrazione per cui in forza di questo diciamo di questa disposizione laddove per l'acquisizione di pareri per di pareri laosta con certi assensi che siano necessari comunque per la realizzazione delle attività nelle aree ZES è possibile che è possibile applicare questo termine ridotto della metà per l'acquisizione dei pareri laddove questi vengono richiesti e lo stesso non non si è stato non si è stato gli stessi non siano stati comunicati quindi in questo caso il il termine da 30 giorni passa a 15 quindi in base a i termini inoltre per l'acquisizione di autorizzazioni pareri che siano necessari sempre per la ubicazione delle attività delle aree ZES sono da considerarsi in questo caso perentori e nel caso di decorso appunto senza acquisizione degli atti richiesti questo si intende reso in senso favorevole è stato aumentato in tema di benefici fiscali il limite massimo per ciascun investimento da 50 a 100 milioni di euro ed è stato esteso anche il credito d'imposta per l'acquisto di immobili che siano strumentali agli investimenti anche mediante dei contratti di locazione finanziaria ok grazie abbiamo finito onorina non so grazie mille grazie mille allora grazie dottoressa e lascio la parola a questo punto al dottor Riccardo Roccasalva buongiorno mi sentite sì 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 sentiamo scusate perfetto perfetto adesso provvedo a proiettare le slide sì arrivano eccole benissimo grazie onorina allora io come anticipava la collega oggi parlerò soprattutto del nuovo procedimento di autorizzazione unico nelle aree ZES quindi quello configurato dalla dall'articolo 5 bis del nuovo articolo 5 bis del decreto legge 91 del 2017 allora cominciamo a scorrere le slide il decreto appunto semplificazioni del 2021 ha introdotto nel nel corpo del decreto legge 91 questo nuovo articolo 5 bis che è rubricato proprio autorizzazione unica e in effetti questo articolo che cosa fa chiarisce ed esplicita tutta una serie di concetti che erano già stati dagli operatori e nucleati e evidenziati in questi anni in pratica cosa si cosa si afferma intanto si inizia dicendo che le opere per realizzare progetti infrastrutturali nelle aree ZES da parte sia di soggetti pubblici che privati sono considerati di pubblica utilità indifferibili e urgenti questo naturalmente come sapete rileva i fini della posizione del vincolo preordinato all'esproprio un po' come accade per tante altre opere pubbliche e private considerate di particolare importanza un altro aspetto importante i progetti io in parentesi quadro ho aggiunto anche le domande naturalmente per l'esercizio dell'attività quindi non soltanto i progetti intesi come domanda per l'effettuazione di opere edili e quant'altro ma anche le domande per l'esercizio dell'attività che riguardano attività economiche o l'insediamento di attività industriali produttive e logistiche nella ZES che non siano naturalmente soggette a scia ai sensi dell'articolo 19 della 241 sono soggette ad autorizzazione unica quindi o è scia o è un procedimento unico nel rispetto delle normative vigenti in materia di via quindi di valutazione di impatto ambientale ho messo in rosso questo passaggio perché dopo dedichiamo giusto un paio di slide di approfondimento l'autorizzazione unica se necessario costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale ad eccezione del piano paesistico e regionale anche qua un'attenzione particolare merita questo inciso perché ha una come dire ha delle conseguenze molto 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 importanti vediamo in pratica cosa vogliono dire questi due aspetti quindi il rispetto il fatto salvo diciamo della normativa vigente è in materia di valutazione di impatto ambientale e il fatto che costituisce variante variante allo strumento urbanistico per quanto riguarda il primo aspetto scusate siamo andati un po' troppo avanti ok dobbiamo considerare naturalmente l'articolo 27 bis del decreto legislativo 152 del 2006 quindi il codice dell'ambiente questo che pure è stato modificato con lo stesso decreto 77 del 2021 prevede il il rilascio del famoso power che insomma detta così come acronimo sembra brutto ma è il provvedimento autorizzatorio unico regionale in caso di via di competenza regionale che cosa dice questo articolo 27 bis ovviamente qui ho messo giusto qualche accenno qualche passaggio importante nel caso di procedimenti di via regionale il proponente presenta all'autorità competente quindi alla regione tipicamente un'istanza per consentire l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a rilascio di tutte le autorizzazioni intese concessioni eccetera e quant'altro e atti di assenso comunque denominati necessari a realizzare e a mettere in esercizio il progetto quindi già qui abbiamo una chiave di lettura molto importante cioè in assorbito nella competenza del procedimento unico ambientale anche tutto ciò che ambientale non è a stretto regime purché sia funzionale alla realizzazione e all'esercizio di quell'impianto l'autorità competente cosa fa? convoca una conferenza di servizi in modalità sincrona quindi ai sensi dell'articolo 14 ter della 241 quindi in modalità contestuale a cui partecipano il proponente e tutte le amministrazioni che sono competenti o anche solo potenzialmente interessate non solo ai fini del rilascio del provvedimento di via ma anche per il rilascio di tutti gli altri titoli abilitativi necessari a realizzare e mettere in esercizio quell'opera quel progetto quindi anche qua abbiamo un'altra chiave importante che va nella direzione appunto dell'onnicomprensività del procedimento unico di finalizzato rilascio del power ma soprattutto abbiamo a mio avviso di rimente rispetto al rispetto al rapporto diciamo tra il procedimento unico di valutazione di impatto ambientale regionale e il nuovo procedimento unico in area ZES e il comma 7 dell'articolo 27 bis nel nuovo testo che risulta proprio appunto dalle modifiche apportate dall'articolo 24 del decreto 77 e cioè la determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce perché appunto parliamo di conferenza di servizio contestuale costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale quindi il famoso power e comprende il provvedimento di via e tutti gli altri titoli abilitativi rilasciati per realizzare e mettere in esercizio il progetto quindi anche qua abbiamo come dire sul lato fase decisore del procedimento abbiamo lo stesso principio che abbiamo visto prima nella fase istruttoria cioè il provvedimento unico è omnicomprensivo parliamo di power quindi di via regionale è omnicomprensivo che riguarda a 360 gradi tutti gli atti di assenso quindi non soltanto quelli spiccatamente finalizzati al rilascio della valutazione di impatto ambientale ma anche eventuali nulla ossa titoli abilitativi relativi all'aspetto paesaggistico di prevenza di incendi e quant'altro trova sintesi e ingresso in questo procedimento unico ambientale tant'è che poi alla fine l'ultimo periodo del comma 7 nel nuovo testo appunto riformulato dice nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali il rilascio quindi sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza quindi alla conferenza contestuale e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale quindi qui è detto proprio in maniera chiara a mio parere che il power diciamo assorbe anche la stessa autorizzazione unica quindi la cosa che quello che vi sto dicendo detta così sembra abbastanza chiara ma come sapete nel nostro paese poi alla fine non tutto è sempre così chiaro e così lineare per cui mi risulta che ci siano delle delle in alcune aree ZES sia stato formulato un parere sull'argomento al ministero ad ogni modo da come è scritta la norma sembrerebbe appunto che vi sia una si sia delineato un assetto per cui il procedimento di power di fatto assorbe il procedimento dell'autorizzazione unica proprio perché l'abbiamo appena letto nel senso del comma 7 dell'articolo 27 bis del codice dell'ambiente ripeto power assorbe anche altre autorizzazioni uniche che riguardano l'esercizio la costruzione dell'impianto quindi così sembra delineata il rapporto tra il procedimento di via regionale quindi di provvedimento autorizzatore unico regionale e la nuova autorizzazione unica di cui all'articolo 5 bis del decreto 91 l'altro aspetto importante che mi sembrava utile far risaltare in queste slide è il discorso della citazione proprio della variante allo strumento urbanistico nel nuovo articolo 5 bis torniamo torniamo per un attimo al power perché anche lì anche nell'articolo 27 bis come saprà chi di voi ha gestito questi procedimenti anche lì è previsto che il procedimento possa configurare un'ipotesi di variante urbanistica nel procedimento di power quindi parliamo ora del procedimento unico ambientale la variante urbanistica l'ipotesi venne ricondotta all'articolo 8 del dpr 160 del 2010 faccio giusto un breve accenno per chi non lo sapesse l'articolo 8 del dpr 160 del 2010 è il procedimento di variante puntuale previsto dalla normativa per il suo quindi se io devo costruire devo ristrutturare o quant'altro un impianto produttivo dove per produttivo si intende appunto tutto ciò che è finalizzato l'esercizio di un'attività di carattere commerciale manifatturiero anche agricolo eccetera insomma la definizione la trovata nel sesso dpr 160 dall'articolo 1 e 2 ebbene in quei casi c'è una procedura di conferenza di servizi che per essere posta in essere per concludersi richiede determinati presupposti quali sono questi presupposti previsti dall'articolo 8 del dpr 160 2010 fondamentalmente l'insufficienza l'assenza o insufficienza di aree destinate a quell'insediamento produttivo per quanto riguarda il progetto presentato quindi il mio progetto di sviluppo imprenditoriale rispetto all'attuale capienza di aree previsto dallo strumento urbanistico generale non trova non trova diciamo possibilità di non trova capienza per cui è necessario porre in essere una procedura di variante lì necessariamente è previsto che nell'articolo 8 è previsto appunto quindi questi sono i requisiti poi la conferenza si conclude con una proposta di variante come sapete quindi una proposta di variante sulla quale deve esprimersi la il consiglio comunale nei tempi previsti appunto dalla normativa perché la conferenza appunto in sé non conclude il procedimento diciamo che è un procedimento misto di due fasi una fase tecnica che si conclude con la proposta di variante e una fase politica perché chiaramente l'assetto e la gestione del territorio dal punto di vista delle scelte e di competenza in questo caso del consiglio comunale per cui se poi il consiglio comunale non si esprime favorevolmente sul progetto licenziato dalla conferenza la proposta diciamo non la proposta rimane tale quindi il procedimento termina lì che cosa dice quindi chiuso questo inciso sull'articolo 8 del DPR 160 per quanto riguarda la procedura di PAUR ci dice che occorre verificare preliminarmente la verifica dei requisiti di procedibilità previsti dall'articolo 8 del DPR 160 del 2010 va bene quindi l'articolo 8 viene richiamato soltanto per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti dei prerequisiti diremmo noi quindi scusate siamo andati avanti quindi soltanto per la verifica del rispetto dei requisiti di procedibilità quindi posso portare avanti la procedura in sede di PAUR se ho verificato che appunto sussista nel requisito dell'assenza e insufficienza delle aree destinate appunto all'attività produttiva in relazione al progetto presentato per quanto riguarda invece la fase conclusiva del procedimento il comma 7 ter che è stato introdotto sempre dal che è stato introdotto sempre dal decreto 77 comma 7 ter dell'articolo 27 bis quindi parliamo sempre di procedura di PAUR stabilisce che laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza attribuiscano carattere di pubblica utilità indifferibilità e urgenza costituiscono variante gli strumenti urbanistici vincolo preordinato all'esproprio la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto quindi quindi qui che cosa abbiamo abbiamo una anche qua nel PAUR abbiamo un effetto di variante automatica quindi non è una non si conclude con una proposta di variante come prevede l'articolo 8 del DPR 160 ma la conferenza dei servizi nella determinazione conclusiva dà semplicemente atto che appunto il titolo rilasciato la determinazione conclusiva della conferenza contestuale vale variante oltre a eventualmente laddove ovviamente sia necessario e può anche non essere necessario ma laddove sia necessario vale come variante non come proposta di variante così come vale come variante l'attribuzione del carattere di pubblica utilità indifferibilità dell'urgenza che come dicevamo prima è così dice un vincolo preordinato all'esproprio leggete qui nella slide un asterisco in verde vicino alla parola strumenti urbanistici perché volevo appunto far notare la differenza che c'è invece con l'articolo 5 bis del decreto legge 91 che abbiamo letto prima l'articolo 5 bis quello introdotto appunto sempre dal decreto 77 non si limita a dire che l'autorizzazione unica costituisce variante degli strumenti urbanistici ma dice che laddove sia necessario costituisce variante anche rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale con la sola eccezione del piano paesaggistico regionale ora capisco la perplessità di molti di voi che dicono come è possibile appunto leggo già qualche commento che dice come è possibile non passare per il consiglio comunale io proprio per questo avevo previsto una slide appunto che faceva giusto un accenno ad altre procedure di varianti che sono già previste dal nostro dalla nostra legislazione variante allo strumento urbanistico come ad esempio l'articolo 12 del regno legislativo 387 del 2003 sapete quello che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da punti rinnovabili e il famosissimo il celebre articolo 208 del codice dell'ambiente cioè la procedura ordinaria per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti queste sono due procedure che prevedono conferenze e servizi che possono portare a varianti urbanistiche vi segnalo giusto questo consiglio di stato una sentenza interessante importante della sezione quinta la sentenza 3109 del 2018 che dice l'esito favorevole a proposito proprio di uno di questi casi quindi non di questa nuova procedura per cui è chiaro che è talmente fresca che non c'è ancora giurisprudenza ma a proposito di questi due casi che vi ho segnalato nella slide quindi l'articolo 12 e l'articolo 208 dice il consiglio di stato l'esito favorevole della conferenza produce anche l'effetto di variante allo strumento urbanistico ove occorra naturalmente ove occorra laddove non occorra non ci sarà bisogno naturalmente il procedimento autorizzatorio nella parte in cui dato che questo costituisce variante allo strumento urbanistico comunale è pertanto legittimo addirittura vedete cosa dice il consiglio di stato l'ho voluto sottolineare l'eventuale mancanza del consenso del comune non rappresenta di per sé in ogni caso un valore decisivo in senso stativo in considerazione dell'effetto previsto direttamente dalla legge di variante prodotto dalla conferenza e dall'autorizzazione unica residuando in capo al comune un mero obbligo di ricepimento quindi qua stiamo parlando naturalmente di procedure che sono fortemente derogatorie e come dire suscettibili di stretta restrittiva interpretazione però insomma sono casi in cui è previsto la possibilità di apportare varianti anche come sottolineo al consiglio di stato in mancanza del consenso espresso dal comune ancora viene introdotta sempre a proposito di questo nuovo procedimento di autorizzazione unica viene introdotta la competenza del commissario straordinario della ZES per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione unica nella quale abbiamo visto che confluiscono tutti gli atti di autorizzazione assensi comunque denominati previsti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto quindi questo è un passaggio importante come dire stabilito dalla riforma del 2021 viene eliminata la competenza in capo dal punto di vista della gestione del procedimento unico in capo allo sportello unico amministrativo delle autorità portuali perché insomma si era visto in questi anni che comunque il come dire il focus dell'attività amministrativa di questi uffici anche laddove costituiti in alcune realtà non erano neanche stati costituiti di fatto non era la gestione del procedimento unico dal punto di vista amministrativo quindi al massimo appunto queste strutture si erano occupate soltanto dell'aspetto legato ai propri endoprocedimenti quindi concessioni demaniali e quant'altro ma non quindi la riforma riconduce la competenza rilascio dell'autorizzazione unica al commissario straordinario parallelamente quindi per dare coerenza normativa a questa innovazione l'articolo 57 del decreto 77 del 2021 aveva già modificato un comma dell'articolo 5 del decreto 91 che è il comma 1 lettera a ter in cui si prevede che il comitato di indirizzo della ZES su impulso del commissario deve assicurare il raccordo non più tra il SUAP e lo sportello unico amministrativo dell'autorità portuale ma tra i SUAP e questi procedimenti unici di cui è l'articolo 5bis ora questo cosa voglia dire in pratica nel concreto questo verrà declinato immagino a livello di singole aree ZES la norma si limita a dire in maniera non necessariamente chiarissima che c'è una centralità appunto nuovamente dei SUAP perché chiaramente loro devono raccordarsi grazie anche all'impulso del comitato di indirizzo delle ZES con i procedimenti unici però il rilascio viene effettuato non dal SUAP come in un normale procedimento ma il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere effettuata dal commissario straordinario della ZES con un'eccezione che poi vedremo in una slide successiva l'autorizzazione unica per quanto riguarda poi il procedimento che porta al rilascio dell'autorizzazione unica da parte del commissario straordinario della ZES l'autorizzazione unica viene rilasciata in esito ad un'apposita conferenza di servizi questa però semplificata quindi mentre abbiamo visto mentre abbiamo visto che la conferenza di servizi prevista per il provvedimento autorizzatore unico regionale articolo 27 del codice dell'ambiente deve essere necessariamente contestuale qui invece torniamo alla procedura tipo configurata dalla legge 241 vi ricordate tutti che appunto la procedura normale di conferenza dei servizi è la conferenza semplificata quindi l'articolo 14 bis della 241 quindi che cosa succede vi ho voluto mettere questa slide giusto come suggestione come spunto nel momento in cui io posso anzi devo come responsabile del procedimento utilizzare la conferenza semplificata nell'ambito del procedimento unico posso fino al 30 giugno 2023 per effetto dell'estensione dei termini previsti dallo stesso decreto 77 posso utilizzare la nuova procedura accelerata una procedura transitoria che appunto prima era valida col decreto semplificazione 2020 era prevista che fosse valida fino al 31 dicembre di quest'anno poi invece col decreto semplificazione 2021 è stata estesa fondamentalmente per altri due anni e mezzo quindi fino al 30 giugno 2023 cosa prevede questa procedura questa nuova procedura accelerata introdotta questa è bene dirlo non è stata inserita nel corpo della legge 241 del 90 ma la trovate come come dire come istituto a parte la trovate nell'articolo trepici del decreto legge 76 del 2020 ve lo voglio segnalare perché questo aspetto è importante per quanto riguarda i termini ad ogni modo cosa dice questa procedura accelerata cosa consente di fare al responsabile del procedimento fondamentalmente due cose attribuire il medesimo termine perentorio di 60 giorni a tutte le amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza sapete che la procedura normale della conferenza semplificata prevista dall'articolo 14b prevede la distinzione tra gli enti prepossi alla tutela di interessi cosiddetti sensibili quelli di rango costituzionale quindi l'ambiente la tutela della salute l'ambiente il paesaggio eccetera questi enti hanno un termine di 90 giorni mentre il termine normale per gli altri enti quindi quelli non prepossi alla tutela degli interessi sensibili quali sono li trovate nell'articolo 14b si è l'elencazione precisa il termine normale è 45 giorni qui che cosa ha voluto dire il legislatore evidentemente quando come tipicamente accade naturalmente nella conferenza complessa come quella di finalizzata rilascio di un'autorizzazione unica in area ZES dove sicuramente ci saranno o quasi sicuramente ci saranno enti prepossi alla tutela di interessi sensibili do un termine di 60 giorni a tutti in questo modo utilizzo raggiungo un duplice obiettivo una duplice finalità la prima è che anche dal punto di vista della gestione ho una maggiore linearità quindi non devo ricordarmi a chi ho dato 45 a chi 90 sono tutti 60 quindi anche dal punto di vista come dire della gestione dei termini la procedura è più ordinata ma soprattutto se ho appunto uno o più enti preposse alla tutela di interessi sensibili risparmio come responsabile del procedimento 30 giorni perché questi non avranno più i 90 previsti dalla normativa generale ripeto quella prevista dall'articolo 14 bis ma questo termine inferiore di 60 giorni quindi questa è la prima semplificazione quindi l'abbassamento da 90 a 60 giorni per gli enti sensibili l'altra semplificazione forse sempre per quanto riguarda il risparmio dei tempi è anche più incisiva per capirla dobbiamo un attimo tornare indietro a cosa prevede la la legge generale quindi l'articolo 14 bis 6 commi 5 e 6 per quanto riguarda i casi come dire la zona grigia dei pareri rilasciati che significa sapete che ci sono dei casi in cui riceviamo io come responsabile del procedimento ricevo tutti i pareri favorevoli senza grosse prescrizioni o con modeste prescrizioni non ricevo pareri favorevoli ma non ricevo proprio nulla quindi in quel caso tranne che per una fattispecie il parere non espresso equivale a parere favorevole incondizionato oppure all'opposto ricevo pareri negativi tombali tombali è ovviamente un termine pedestre che uso io giusto per chiarirci non lo trovate nella nella legislazione vuol dire pareri negativi proprio basati su una radicale incompatibilità dell'intervento della proposta di progetto rispetto a quella che è la normativa di settore quindi non ci sono modi naturalmente sulla base di una valutazione fatta dal singolo ufficio del singolo ente non ci sono modi per superare la difformità tra quel progetto e la normativa di settore quindi questi sono i casi questi sono i casi come dire estremi da una parte e dall'altra che cosa vuol dire parere favorevole uguale parere non dato uguale parere favorevole incondizionato questo vale sempre a meno che articolo 14 bis comma 4 questo lo ricordo sempre a meno che non si tratti la necessità di un parere espresso non derivi direttamente da una normativa comunitaria quindi a meno che non ci sia un regolamento una direttiva che preveda l'obbligo di un parere espresso in quel caso appunto il silenzio e il senso non si forma mai quindi in quel caso per far andare avanti la conferenza bisogna necessariamente provvedere a diffide messe in mora e quant'altro applicare eventualmente poteri sostitutivi eccetera ma non c'è in sé la possibilità di farne derivare un silenzio assenso benissimo quali sono questi casi è una domanda che fanno sempre fate sempre a tutti i webinar quindi anticipo possibili domande ci sono dei casi testuali come per esempio è il caso anche delle aree ZES l'autorizzazione prevista dall'articolo 269 del codice dell'ambiente l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera così come per tutt'altro campo delle attività produttive ad esempio c'è l'autorizzazione che si chiama un regolamento comunitario l'853 del 2004 chiama riconoscimento riconoscimento degli stabilimenti dove si trattano determinate sostanze alimentari anche in quel caso è previsto l'obbligo di concludere il procedimento con un parere espresso quindi ci sono dei casi in cui pacificamente non si non si forma il silenzio assenso quindi fuori da questi casi tornando alla slide quindi ho tutti i pareri favorevoli impliciti o espliciti oppure ho dei pareri tombali questi sono i casi estremi in mezzo c'è una zona grigia come tutti voi che lavorate negli uffici pubblici sapete che è quella zona in cui riceve un parere favorevole però con prescrizioni che appaiono sostanziali che appaiono quasi che necessitano quasi di una modifica sostanziale del progetto o all'opposto ho un parere negativo però come sul dirsi collaborativo quindi un parere non tombale ma si dice l'ufficio lente compulsato dice a queste condizioni quindi effettuando determinate modifiche al progetto è possibile rivedere appunto il presente parere negativo quindi a queste condizioni la normativa generale in questi casi quindi il combinato disposto dei combi 5 e 6 dell'articolo 14 bis ci dice che i responsabili del procedimento evidentemente per evitare un ping pong diciamo così di 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 pareri che dovrebbero essere espressi da da uffici che poi magari non si coordinano necessariamente con altri uffici immaginiamo il caso in cui l'interessato appunto ottempera queste prescrizioni sostanziali però per ottemperare che succede che magari quelle modifiche non vanno più bene a un altro ente che aveva rilasciato parere favorevole quindi in questi casi per tagliare corto l'articolo 14 bis si conclude dicendo il comma 6 dice il responsabile del procedimento convoca nella data che aveva messo nella viso di indizione della conferenza semplificata convoca una conferenza contestuale quindi si innesta sulle ceneri della sulle ceneri della ormai defunta conferenza semplificata si innesta una nuova fase di conferenza contestuale che ha i suoi tempi l'unica facilizzazione ci ricorda l'articolo 14 ter è che il termine dato a tutti gli enti da quella data quindi dalla data della prima riunione è sempre 45 giorni non c'è più la distinzione tra 45 e 90 perché tutti gli enti compresi quelli preposti alla tutela di interessi sensibili hanno avuto evidentemente modo di conoscere la problematica sanno di che si parla e quindi non ha senso dare 90 giorni agli enti sensibili il legislatore dice si chiude entro ulteriori 45 giorni dalla prima riunione in presenza quindi questo è l'assetto normativo generale per velocizzare il procedimento quindi se noi vogliamo utilizzare come responsabili del procedimento questa procedura accelerata possiamo assolutamente in questi casi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri possiamo in dire convocare una riunione telematica quindi non fisica dove costringiamo tutti compresi noi stessi ad andare in ufficio eccetera ma una riunione telematica di tutti gli enti coinvolti in cui si prende atto delle rispettive posizioni e si procede il responsabile del procedimento procede senza ritardo a redigere la determinazione motivata conclusiva quindi come vedete è una forte accelerazione perché non è che devo aspettare la data per la prima riunione e poi da quella decorano ulteriori 45 giorni no quindi i corsi 30 giorni io farò un'unica riunione telematica e quel giorno si chiude quindi si prende atto delle posizioni ovviamente la norma fa riferimento a questo articolo 13 del decreto 76 che ha introdotto la procedura accelerata transitoria rinvia al comma 4 dell'articolo 14 ter quindi alle riunioni telematiche dovrebbero partecipare i rappresentanti unici ma la cosa importante è che si chiude in esito a quella stessa riunione telematica quindi un'accelerazione abbastanza significativa allora torniamo al modulo normale quindi di conferenza di servizi alla conferenza dei servizi sono convocate dice la norma ma io ho scritto tra parentesi quadra non era forse più corretta invitata perché parliamo di conferenza semplificata tutte le amministrazioni competenti anche per la tutela ambientale paese agistico territoriale dei beni culturali demaniali antincendio tutto insomma comprese quelle preposte della disciplina doganale se è un'autorizzazione unica naturalmente dentro devono metterci tutti gli enti preposti a prescindere dall'interesse pubblico che questi tutelano quando parliamo per i motivi ho detto prima quando parliamo di tutela ambientale immagino che non si faccia riferimento al procedimento di via regionale quindi di power previsto dall'articolo 27 bis per i motivi che vi ho detto prima lì dovrebbe esserci una come cosiddetta attrazione della conferenza invece contestuale un assorbimento di quella conferenza nei confronti di questo procedimento per i motivi che abbiamo detto prima e ora veniamo alla riduzione dei termini di cui già ha parlato prima Caterina quindi nell'ambito del procedimento unico eventuali autorizzazioni licenze permessi concessione un laus comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri intese con certi o altri atti d'assenso di competenze di più amministrazione sono adottate essenze dell'articolo 14 bis della 241 della Malta i termini previsti sono ridotti della metà questo questo ve l'ho voluto sottolineare perché perché è chiaro che la riduzione dei termini prevista dall'articolo 5 non dell'articolo 5 bis ma dell'articolo 5 del decreto legge 91 è una riduzione dei termini che si riferisce alla procedura normale ordinaria di conferenza dei servizi semplificata quindi questo chiariamolo quindi se io mi avvalgo della perché il richiamo è appunto all'articolo 14 bis non all'articolo 13 del decreto legge 76 del 2020 quindi tradotto in parole chiare se io come responsabile del procedimento indico una conferenza semplificata nell'ambito di un'autorizzazione unica da rilasciare in area ZES potrò avvalermi mi avvarro anzi così della non è che mi avvalgo questo è un obbligo i termini sono ridotti alla metà quindi parliamo dei 45 e dei 90 giorni che sono il termine ordinario previsto per gli enti rispettivamente non sensibili e sensibili se invece mi avvalgo dell'altra conferenza che già è derogatoria rispetto all'articolo 14 bis quella che prevede termini di 60 giorni per uguali per tutti e lì non si applica come dire non si applica il dimezzamento dei termini previsti per le aree ZES perché lì già abbiamo perché l'articolo 5 dice sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 14 bis se io invece la conferenza la convoca ai sensi dell'articolo 13 del decreto semplificazione 2020 lì già ho una procedura derogatoria dei termini 60 giorni sono e 60 giorni 60 giorni restano come dicevo prima la regola generale per cui l'autorizzazione unica ai sensi del 5 bis viene rilasciata dal commissario straordinario di governo subisce una deroga se gli interventi ricadono nella competenza di un'autorità di sistema portuale in questi casi l'autorizzazione unica è rilasciata dall'autorità di sistema portuale ora anche qui come poi dovrà funzionare il legame tra l'istruttoria del procedimento unico e il rilascio da parte dell'autorità di sistema portuale naturalmente questo poi il legislatore implicitamente lo pone nella libera determinazione dei comitati di indirizzo delle varie aree ZES o nei piani di sviluppo regionale che hanno previsto l'approvazione delle aree ZES il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 5 bis sostituisce ogni altra autorizzazione approvazione e parere comunque denominati e consente di realizzare tutte le opere prestazioni e attività previste dal progetto quindi ancora una volta anche qui abbiamo un'efficacia onnicomprensiva da parte dell'autorizzazione unica quindi il mantra del legislatore oggi è sempre quello di favorire procedimenti in esito ai quali l'interessato può tra virgolette aprire il cantiere o avviare l'attività non bisogna fare più altri passaggi quindi se ci sarà dentro una dentro la procedura una valutazione di impatto ambientale regionale allora si seguirà il procedimento unico di Power altrimenti si seguirà l'autorizzazione unica prevista dal 5 bis ma in entrambi i casi la razio è esattamente la stessa quindi fatta quella espletata quella conformemente alla legge non dovrei avere altre necessità di interpellare questo ufficio quell'ufficio quell'altro ente quindi l'effetto è sempre e comunque onnicomprensivo se invece non devo acquisire in questo l'articolo 5 bis è pienamente coerente con l'articolo 14 bis della 241 quindi se non devo acquisire pareri o atti di assenso comunque denominati da almeno due amministrazioni va bene allora a quel caso in quel caso si applica il procedimento ordinario autorizzatorio oppure la scia seconda in questa in questa ipotesi residuale diciamo resta firmo quanto rivisto dell'articolo 5 il comma 1 lettera del decreto legge 91 del 2017 cioè sono ridotti di un terzo quindi fate attenzione non della metà come invece in conferenza di servizi ma di un terzo i termini previsti dai principali indoprocedimenti quindi in particolare quelli previsti dagli articoli 2 e 19 della 241 quindi la scia che vuol dire sono ridotti di un terzo vuol dire che il termine ordinario di 60 giorni per l'istruttore della scia amministrativa è ridotta a 40 giorni mentre il termine ordinario di 30 giorni per la scia edilizia ai sensi del comma 6b dell'articolo 19 è ridotta a 20 giorni quindi già termini brevi diventano brevissimi vi ricordo l'importanza ancora una volta di in caso di scia di rispettare laddove è possibile naturalmente chi ha lavorato come me uno sportello unico sa bene cosa vuol dire quanto sia insidiosa la procedura di scia quindi quanto sia importante è difficile rispetto ai termini anche perché spesso le scia vengono aperte già quasi in prossimità della scadenza dei termini ordinari di istruttore se non dopo vi ricordo che passato il termine di 60 o di 30 giorni e quindi declinato alle aree ZES di 40 o di 20 giorni abbiamo una possibilità eventualmente di fare divieti di prosecuzione dell'attività o nei casi meno gravi di fare una richiesta di conformazione ma soltanto nei casi previsti dall'articolo 21 noniest che è l'articolo che disciplina l'annullamento d'ufficio quindi non entro in questo dettaglio perché altrimenti ci vorrebbe un altro webinar ma insomma dei corsi termini abbiamo sempre la possibilità di intervenire ma con maggiori con un binario un po' più stretto diciamo così come si applica la riduzione dei termini al decreto legislativo 152 quindi il codice dell'ambiente per quanto riguarda la via per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica e l'aia l'autorizzazione intera ed ambientale ancora riduzione di un terzo per quanto riguarda la procedura di agua quindi il dpr 59 2013 di cui più volte abbiamo trattato nei nostri webinar in materia di autorizzazione paesaggistica sia quella ordinaria prevista dell'articolo 146 del decreto 42 2004 segue la semplificata prevista dal dpr 31 del 2017 e al dpr 380 2001 in materia di edilizia quindi anche qua tutti i termini previsti ad esempio dell'articolo 20 per quanto riguarda il rilascio del permesso di costruire o i termini previsti per l'istruttore del sci eccetera sono tutti abbreviati di un terzo e infine ai termini previsti della legge 84 del 94 per quanto riguarda le concessioni demaniali portuali chiudo con con quest'ultima con quest'ultima slide è una l'articolo 57 del decreto semplificazione di quest'anno quindi del decreto legge 77 ha per dare una maggiore coerenza sistematica diciamo del sistema rispetto a quella che è la disciplina generale introdotta anche nella 241 ha previsto una ha inserito un nuovo comma anche nell'articolo 5 dello stesso decreto 91 e cioè il comma 1 bis che cosa dice questo nuovo comma 1 bis i termini di cui ha il comma 1 i termini previsti per il rilascio di autorizzazione approvazione intese concerti eccetera eccetera quindi quelli che i termini che abbiamo visto prima sono tutti i termini chiunque li rilasci quindi enti locali regionali amministrazioni centrali enti agenzie gestori di pubblico servizio quello che sia sono tutti i termini da considerarsi perentori qualcuno di voi dirà lo sapevo già però insomma scriverlo è sempre importante decorsi inutilmente tra i termini gli atti si intendono resi in senso favorevole perché dico che questa norma è stata inserita per una questione di coerenza sistematica perché già l'anno scorso qualcuno di voi avrà seguito i webinar che abbiamo trattato io e i miei colleghi sull'argomento con il decreto legge 76 del 2020 il decreto semplificazioni dello scorso anno era stato introdotto dice tuttora un nuovo comma nell'articolo 2 della 241 che è il comma 8 bis dove si dice fondamentalmente questo quindi che i termini sono perentori per la verità il comma 8 bis dell'articolo 2 conclude dicendo fatto salvo quanto previsto dal fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 nonies per l'annullamento d'ufficio cioè se io lascio decorrere i termini così come per la scia vi ricordate di corsi 60 e 30 giorni ordinari o nel caso di area zes 40 e 20 faccio decorrere i termini di struttura e posso ancora avvalermi della possibilità di intervenire sulla scia in alcuni casi quelli previsti dall'articolo 21 nonies la disciplina generale prevede che anche qua se devo rilasciare un parere a quelle stesse condizioni posso ancora eventualmente intervenire qua si dice in questo caso si dice sic et simpliciter il procedimento il termine perentorio il termine perentorio vuol dire senza ulteriori senza ulteriori fatti salvo vuol dire che l'ente competente consuma diciamo perde il parere il potere di provvedere quindi teoricamente il responsabile del procedimento dovrebbe considerare il parere fuori termine come un parere non dato un parere nullo questo è l'effetto connesso alla perentorietà di un termine di fatto questo nuovo comma dell'articolo 1b si richiama quanto già previsto dall'articolo 17b della legge 241 che è il silenzio cosiddetto procedimentale nei rapporti tra pubblica e amministrazioni i cui termini tra l'altro sono già stati ridotti in questo caso alla metà dalla riforma del 2021 per le aree ZES quindi anche come vi è stato detto prima anche per per i pareri endoprocedimentali esenti dell'articolo 17b della 241 in area ZES i termini sono ridotti alla metà i termini vi ricordo sono quelli di 30 o 90 giorni in via ordinaria per rilasciare pareri ad altre pubbliche amministrazioni parliamo del procedimento generale e in caso di area ZES sono ridotti della metà fiducioso di avervi più che altro confuso le idee io a questo punto cederei la parola ad Onorina e a Caterina insomma se vuole cominciare a rispondere a qualche domanda io nel frattempo vedo le mie grazie grazie mille grazie mille ai relatori per i loro interventi allora in effetti ci sono delle domande lascerei la parola a questo punto alla dottoressa Enrico se vuole cominciare a rispondere grazie sì allora io vi sociao una domanda dove dice una volta considerata ZES una regione occorre individuare aree con appositi requisiti o questo non è rilevante in realtà le aree ZES sono già individuate nel piano di sviluppo strategico che è stato che viene poi ricompreso nel DPCM di istituzione dell'area ZES per cui sono indicate già le porzioni di aree interessate bisogna dare evidenza dell'area portuale che è inclusa diciamo nell'area ZES e quindi a seguito delle varie diciamo istituzioni delle aree ZES poi le autorità competenti hanno provveduto a perimetrare in maniera specifica le aree ricomprese già individuate nel piano di sviluppo per cui non è necessario individuare le cosiddiche specifici sono già individuate nei piani di sviluppo queste aree poi per quello che riguarda la domanda relativa a una volta istituite le zone ZES queste restano tali fino a quando il DPCM 25 gennaio 2018 numero 12 che segue il DL 91 del 2017 dispone che la ZES è istituita appunto con un DPCM e che la sua durata non può essere inferiore a 7 anni e superiore a 14 e che comunque questa durata può essere prograbile di ulteriori 7 anni fino a su richiesta dalle regioni interessate quindi è comunque previsto un termine temporale per l'individuazione delle aree ZES e i benefici che sono connessi all'area ZES in sé poi le altre domande mi pare che sono relative a al al Power e comunque alla alla parte relativa a quanto trattato da sì dunque intanto c'è una domanda che dice una volta istituite le zone ZES restano tali fino a quando allora la normativa dice fondamentalmente che la la ZES viene istituita come sapete con il DPCM la sua durata non può essere inferiore a 7 anni e superiore a 14 prorogabile fino a un massimo di 7 anni su richiesta delle regioni interessate per quanto riguarda del resto per questo motivo nell'articolo mi sembra 4 della legge 91 è anche previsto che le imprese che vogliono insediarsi e che fruiscono del credito di imposta e di altre misure agevolative previste nell'area ZES hanno l'obbligo proprio non casualmente di impegnarsi a rimanere appena alla decadenza della revoca del contributo a rimanere appunto localizzato in quell'area ZES per almeno 7 anni per quanto riguarda il si chiede qual è l'articolo che indica che nella conferenza dei servizi i tempi per la via sono ridotti di un terzo allora l'articolo è l'articolo 5,1 del decreto legge 91 del 2017 che dice per l'appunto sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli tra gli altri diceva la Ghiara nel decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 in materia di valutazione di impatto ambientale naturalmente questo che questo che vi ho detto va poi coordinato con il discorso che abbiamo fatto prima quindi sulla quella che io ho immaginato come un assorbimento della procedura di power che appunto ingloba in sé anche a questo punto l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 5 bis però su questo appunto so che sono state fatte dei fatti dei quesiti al ministero insomma bisognerà verificare perché da come è scritto non tanto l'articolo 5 bis del decreto legge 91 ma soprattutto ripeto l'articolo 27 bis del l'articolo 27 bis del codice dell'ambiente insomma sembrano le cose essere stare in questi termini dunque vediamo un po' le agevolazioni fiscali già applicabili Caterina sicuramente il credito di imposta poi che è una misura diciamo che vale per tutte le ZES stabilite a livello nazionale poi dipende anche dalle varie regioni dai vari comitati di indirizzo no? cosa prevedono il credito di imposta che può essere che può essere applicato poi le singole regioni come come stabilito nei decreti possono individuare ulteriori misure eh sia di semplificazione che diciamo di benefici per gli investimenti però in linea in generale la misura applicabile è quella del credito di imposta con l'aumento del limite massimo dell'investimento che può essere oggetto di credito da 50 a 100 milioni di euro e l'inclusione dei beni dell'acquisto dei beni per l'utilizzo dell'attività diciamo queste sono le novità introdotte sì poi dicono una volta istituita la ZES con DPCM può essere modificata per ricomprendere altre zone sicuramente sì insomma in alcune aree ZES è già stato fatto no? un aumento della perimetrazione naturalmente insomma attraverso indici no? perché probabilmente deve essere vai vai è necessario poi fare la stessa procedura quindi poi riproporre il piano di sviluppo all'innovazione con DPCM quindi comunque è sicuramente possibile al momento diciamo che non è capitato allora poi scrivono inclusione di quali beni non si è capito non so quali sono i beni così i beni l'acquisto ho visto la misura che è stata prevista nel decreto semplificazione l'acquisto dei beni immobili per lo svolgimento delle attività quindi se devo acquistare la sede questo può essere oggetto del credito questo allora poi leggo un'altra volta sul discorso della riduzione di un terzo dei termini per la via mi sembra che l'articolo 17,2 recita che la disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistica e territoriale e della salute dei cittadini ora non so quale articolo 17 il collega fa riferimento ma insomma l'articolo 5 naturalmente è l'ex specialis perché riguarda una specifica tempistica di procedimenti che riguarda appunto i procedimenti di via in area Z ed è previsto testualmente dal comma 1 che si tratta di la riduzione di un terzo dei termini poi 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 altro non non so dire per quanto riguarda dimmi no 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 vai forse faceva riferimento all'articolo 17 bis forse però in realtà la riduzione del termine per la via è proprio dall'articolo 5 del decreto 1991 del 2017 là dove nella slide l'hai fatta vedere tu col precedente decreto semplificazione era stato introdotto proprio quella modifica all'articolo 5 specificando che per queste procedure i termini venivano ridotti di un terzo e c'è il decreto specifico al decreto legislativo 152 2006 in tema di valutazione di impatto ambientale eccetera quindi è lì che è stato stabilito non tanto che la conferenza di servizi ma quanto in generale il procedimento di via abbia la riduzione dei termini di vita tenete conto che comunque anche con il 77 è stato ridotto il procedimento del power riducendo alcuni termini quindi in via generale il power comunque oltre all'autorizzazione unica è stato comunque un po' compresso nei termini proprio per cercare di facilitare l'ottenimento del nel caso in cui si debbano realizzare interventi sono interventi che sono finalizzati a favorire il sviluppo di aria in ritardo di sviluppo scusate la vabbè vediamo se ci sono altre domande altrimenti direi che più o meno abbiamo risposto a tutte la caterina è possibile chiarire eventualmente penso che a quello a cui non abbiamo risposto è possibile chiedere quali sono le agevolazioni che possono fare una ZES il successo è stato eccezionale ma allora ripeto per quello che riguarda le agevolazioni il tema del webinar le agevolazioni previste in questo momento sono soprattutto agevolazioni sul credito d'imposta nei piani di sviluppo strategici di ciascuna regione poi possono essere individuati ulteriori strumenti per esempio i contratti di sviluppo piuttosto che agevolazioni specifiche per determinate categorie di imprese e quindi c'è anche da dire che le ZES come dire sono sono state determinate da questo nel decreto legge del 2017 ma finora hanno avuto un avvio un po' come dire a strappi perché siamo di nuovo in una situazione in cui in alcuni casi erano stati nominati commissari straordinari e questi commissari straordinari sono decaduti per effetto del decreto semplificazione di PIS e ancora non sono stati nominati quindi è probabile che poi vengano ulteriormente definite nuove misure al momento quello specifico per la ZES è quello previsto dal credito d'imposta e dalla legge di bilancio del sì tra l'altro se posso fare un inciso anche di carattere un po' critico la la ZES di Katowice così come di altre ZES in sud-est asiatico in giro per il mondo lì c'è stato anche un taglio con l'accetta degli adempiamenti burocratici laddove invece in Italia comunque il discorso è sempre un po' più complesso e più difficile bisogna sempre come abbiamo visto adesso nelle slide che abbiamo proiettato rispettare anche se con tempistiche un po' ridotte livelli di governo e quindi non c'è stata una centralizzazione per esempio delle procedure insomma viene sempre fatta salva la conferenza autorizzatoria di tutti gli enti quindi chiaramente occorre sempre nell'autorizzazione unica o nel power come abbiamo visto in caso di via regionale vuole sempre considerare l'esigenza di insomma tenere dentro enti che a volte non rispondono insomma che a volte non si parte non partecipano alle conferenze insomma le criticità sono quelle di una normale gestione dei procedimenti amministrativi che chi lavora in questo campo ben conosce ecco questo posso dire Caterina io direi che possiamo fermarci qua e non so ringraziamo tutti per l'attenzione e alla prossima una considerazione finale di Giuseppe Calabro che dice la continua produzione normativa mi sembra abbia prodotto uno stato di precarietà normativa permanente si è con conseguente generazione di estrema concessione sia da parte degli enti che da parte degli investitori ma è sicuramente siamo tutti nel senso che anche per esempio la questione della coesistenza tra power e via il quesito è stato fatto al ministero proprio perché al di là di appunto un passaggio nella norma non si capisce bene quindi probabilmente siamo tutti d'accordo su quello quindi potrebbe essere diciamo la in questo momento il tag da mettere alla questione ZES c'è molta confusione al momento non lo so testo unico non lo so ma sicuramente bisognerebbe che ci fosse un intervento specifico che dicesse in determinate situazioni si fa così oppure come diceva Riccardo stabilire che per le aree ZES valgono solo determinate regole e si fa in quel modo senza andare a tenere sempre dentro un po' uno e un po' una norma e un po' l'altra che è quello il problema grazie va bene grazie a tutti un'ordine